Sì, è un miracolo! Un miracolo, Pasqua! Mi ha già perduto tutta la famiglia mia! Papà! Papà! La tempesta ci ha dato la libertà. Siamo stati fortunati. La signora ha detto che siete una compagnia d'attori. Esattamente. C'erano quattro camorristi sul traghetto. Sì, molto probabilmente c'è stata una sommossa. Si sono liberati. Lei non ha visto né sentito niente. Lei ha paura. Li hanno sparato. Metta in scena una commedia. Quello, il direttore, è convinto che in questo modo potrà capire quelli che tra di noi non sono attori. E' bravo il direttore. Ci fotte e si diverte. Palcoscenico. Il direttore è il direttore. Aizza! Le vedove sono più numerose degli uomini che riportiamo. La colpa è vostra. Piangete e confessate! C'è scritto piangete e confessate. No, no, qui non c'è scritto. Ma che fai? Improvviso Shakespeare. Dobbiamo riscrivere il copione. Ma che volete fare il mestiere che faccio io? Mentre io preferia un'altra morte. Ma che sta dicendo? Io non sto capendo niente. Ma io stiamo recitando una schifezza perché non so parole nostre. Tu ignori ancora, figlia, chi sei e di dove io venga. Il tempo su un'isola non segue più le regole della ragione. Si dilata, si estende. Il teatro mette le ali al cuore. Eppure ha la ragione. Abbracciate chi sto braccio attraversa il suo mare quanto è l'uomo. Che sti prepotenza, io non l'accetto. E io posso far prospero che fa la magia con un dito. Almeno si scena la tempesta. Ma io, con un rito, mi abbassate il regno, dici uno capitano. Se volete, sarà la vostra sposa. Se mi dite di no, fino alla morte è vostra testa.